la contessa di carolistria storia tragicomica capitolo ii lo giorno se ne andava e il visconte sepolto nelle foglie lo zigaro in bocca la rivoltella in pugno attendeva colla fede del giusto colla sicurezza del forte l'ora della liberazione le tenebre non erano ancora tanto fitte che l'occhio non potesse discernere i contorni degli oggetti un surdo calpestio distrasse il visconte dalle erotiche fantasmagorie che lo cullavano in quel letto ancora pieno di tepuri e di profumi femminili così presto pensò egli rizzandosi sui gomiti no è inverosimile non è scorsa mezz'ora da che la contessa è partita impossibile che la abbia già rimandato il mio cavallo ai miei abiti e poi soggiunse il visconte dopo aver ascoltato in silenzio questo cavallo non batte la strada maestra lo scalpitio è ammorzato dalle eriche e dalle foglie a buon conto prepariamoci agli eventi il visconte balzò in piedi e appoggiandosi dietro un albero prese di mira per quanto gli consentissero le tenebre il quadrupede che si avanzava alla sua volta era una cavalla di purissima razza maltese una cavalla che i nostri lettori hanno già visto comparire in questo racconto era affrettiamoci dirlo la elegante baldanzosa puledra che poco di anzi aveva costeggiato la selva portando in groppa la contessa carolistria il visconte vedendo la bestia soffermarsi emise dal petto un chivalà che avrebbe fatto indietreggiare un esercito di dragoni nessuna voce la cavalla scalpitava ed ondolava la testa fiutando il terreno l'intrepido visconte si slanciò afferrò la bestia per le nari e facendo scattare il grilletto della pistola proferì una minacciosa intimazione cos'è dunque codesto carico di stoffe addossato alla sella esclamò il visconte pienamente rassicurato di non avere affare con malandrini nulla più nulla meno che un cumulo di stoffe e i miei arguti lettori già indovinano che quelle stoffe erano le spoglie della contessa di carolistria il prezioso bottino di cui poco di anzi si erano impadroniti briganti ed eccovi in poche parole la spiegazione dell'enigma mentre si affrettavano verso il loro covo per dividere i gioielli e le vesti involate i tre aggressori della contessa erano stati sorpresi da una pattuglia di carabinieri usciti in quel giorno stesso da borgoflora e saperlostrare la foresta si impegnò una lotta tremenda fuoco di qua fuoco di là fischi di palle spezzature di crani stramazzoni capitomboli urli di feriti bestemmie di moribondi frattanto la puledra della contessa abbandonata ai suoi liberi istinti avea ripreso il trotto per tornare sul luogo dove i malandrini avevano consumata l'aggressione e appunto era venuta a far sosta a pochi passi dal visconte il visconte rendiamo giustizia al di lui accorgimento compresi in un attimo ciò che in tal caso era ovvio a comprendersi si accostò alla puledra e accarezzandole il collo le tolse di groppa la veste elegante di amazzone il bizzarro cappello ornato di piume azzurre tutti gli ornamenti infine e i gingilli preziosi che costituivano le spoglie della malcapitata signora in quel luogo in quell'ora sotto lo stimolo della brezza che gli crespava l'epidermide nuda quegli indumenti muliebri erano pel visconte un soccorso della provvidenza senza indugiare egli se li pose indosso gli andavano a meraviglia e dopo essersi abbigliato completamente spiccò un salto fu in sella e via di galoppo alla volta di borgo flores quando il visconte giunse alle porte della città le due sentinelle che stavano di guardia incrociarono le lavarde e un grosso commissario di polizia avanzandosi e trattenendo la cavalla per la briglia intimò pulitamente al nostro gentiluomo in gonnella di mostrargli il passaporto il visconte leggermente turbato riflette un istante e poi disse è strano che in un paese tanto vantato per i suoi civili costumi sussista ancora la barbara usanza di chiedere il passaporto ai forestieri che si presentano alle porte più strano ancora che questa formalità vessatoria ed odiosa non venga almeno risparmiata alle persone del mio sesso la società umana rispose il commissario sorridendo non rappresenta che un intreccio di stranezze il visconte cacciò una mano nel taschino della gonnella e tratto nel portafoglio presentò al commissario una carta di visita se questa può bastare vediamo poi con un risolino di soddisfazione il commissario soggiunse non serve che la signora contessa ci fornisca altra prova della sua identità questa carta ci basta si compiaccia dunque di scendere da cavallo e di seguirci scendere da cavallo seguirvi che vuol dire ciò domandò il visconte sorpreso vuol dire rispose il commissario pacatamente che noi abbiamo ordine di mettere la illustrissima signora contessa di carolistria in stato di arresto e poiché voi gentilissima signora siete appunto la contessa anna maria di carolistria e i tratti del vostro viso non chi la foggia il colore del vostro abbigliamento rispondono perfettamente ai connotati che ci vennero trasmessi così speriamo che di buon grado vorrete ottemperare alle nostre ingiunzioni piuttosto che costringerci ad impiegare quei mezzi coercitivi parlate voi da senno esclamò il visconte irritato chi lo sappia almeno da qual parte è venuto l'ordine di arrestarmi l'ordine è partito rispose il commissario sorridendo da una persona che essendo legata a voi con nodi indissolubili ci tiene molto al possedimento delle vostre grazie venite signora vostro marito vi reclama vostro marito non può vivere senza di voi ciò deve lusingare grandemente il vostro amor proprio di donna e compensarvi della lievissima pena che noi siamo obbligati ad infliggervi il visconte riflette un istante questo equivoco pensò egli può tornar giovevole alla contessa le darà il tempo di allontanarsi da borgoflores e sfuggire alle vessazioni di un marito che la perseguita egli scese da cavallo commissario sono con voi esclamò compiglio dignitoso voglio sperare che l'ordine di cattura non si stenda a questa mia buona puledra che ha camminato tutto il giorno e ha bisogno urgentissimo di fieno e di riposo vorreste voi signor commissario gentilissimo affidarla a qualcuno che si incaricasse di condurla all'albergo della maga rossa il commissario assentì mentre un gaglioffo di doganiere afferrava il morso della puledra il visconte gli si accostò con un pretesto e facendogli scivolare nella mano una carta di visita gli disse sottovoce rapidamente eccoti l'indirizzo di una dama silenzio discrezione fra un mese sarai ispettore fra un anno prefetto il doganiere partì sbalordito e il visconte condotto dal commissario alla caserma delle guardie di pubblica sicurezza venne rinchiuso in una cameraccia disadorna a mala pena reschiarata dal fumo di un lucignolo moribondo